Completamente incenerite, carbonizzate. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti alle 4 del mattino a seguito di segnalazione in via Ungheria Libera a San Donà, erano già quasi completamente distrutte. Quattro vetture della polizia locale, una utilizzata generalmente dai messi comunali, date alle fiamme nel retro dello stabile dove assiede il comando locale. Tre auto e un furgoncino utilizzato come ufficio mobile, con tutta l'attrezzatura all'interno. Pesantissimi i danni, spiega Danila Sellan, il comandante della polizia locale. Oltre ai veicoli, che sono quattro veicoli, tra l'altro i più nuovi, i più attrezzati, quindi pare che fosse anche mirata questa scelta, avevamo anche numerose attrezzature importanti, tipo il defibrillatore. Sconvolgente la dinamica dell'accaduto. Non abbiamo ricevuto nessuna minaccia, spiega il sindaco Andrea Cereser, fra i primi intervenuti sul posto all'alba. Non sappiamo chi possa essere stato, ma di sicuro, aggiunge, non ci faremo intimidire. Un evento che lascia un po' a bocca aperta la città perché non aveva dimensioni di quelle che si potevano prevedere. Sono contento e ringrazio anche per come il corpo di polizia locale ha reagito. I malviventi hanno agito attraverso il cortile esterno del condominio adiacente il comando di polizia. Hanno scelto un punto ben nascosto del cortile, lontano dalla strada principale, e lì hanno praticato un grosso foro nella rete metallica, probabilmente utilizzando cesoie per troncare il filo di ferro. Da lì si sono introdotti nello spazio dove erano parcheggiate le vetture, che erano intenzionate ad incendiare e hanno appiccato l'errogo. Sono anche vicini alla caldaia, lì se prendevano i tubi del gas era una bomba e saltavamo anche noi che abbiamo le caldaie da questa parte. Per cui questo non penso che sia una bravata da ragazzi, questo è una cosa terroristica. Questo taglio della rete in un punto nascosto in cui non si vede niente. Evidentemente è stato anche tenuto d'occhio il posto. Indagini a 360 gradi per ricostruire l'accaduto e risalire ai responsabili. La polizia spiega che non si tratta del primo episodio. Nei mesi scorsi si ebbero fatti analoghi a Porto Gruaro ad esempio, vetture date alle fiamme anche in altre località della provincia di Venezia. Per questo seguiranno controlli a 360 gradi.